Buona giornata! Quanta pazienza dobbiamo mettere nelle cose? Quanta pazienza dobbiamo mettere e alimentare i nostri legami, le nostre relazioni, i nostri affetti? Se ci chiediamo che cosa chiediamo oggi al Signore il dono della pazienza? Certo chiediamolo perché? Perché nella pazienza è insita, c'è dentro la speranza. In fondo se noi siamo pazienti abbiamo la speranza nel cuore, abbiamo la speranza che le cose possono cambiare, possono maturare, possono avere un orizzonte diverso e proprio chi non ha pazienza che spesso e volentieri c'è disperazione, c'è nulla, anzi non c'è futuro. Chiediamo il dono della pazienza perché? Perché diamo speranza alle cose e le cose e quanto ci accade possono cambiare nella nostra vita. Il Signore ti benedica e ti illumini quanta pazienza ha anche con noi. Buona giornata! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!